Oggi andiamo a fare una ciambella di pasta, un pochino di palchettino, besciamella, prosciutto a fette, dolmen, prosciutto a cubetti e menini secchi che abbiamo messo in acqua per dargli vita. Per quanto tempo? Per un quarto d'ora, dici minuti. Ottimo. Perfetto. Adesso andiamo a fare un pochino d'olio, un filino d'olio, un filino d'olio, un filino d'olio e accendiamo. Facciamo il soffrittino. Facciamo il soffritto con l'alietto. Ma tu non puoi fare i video a spese nostre, che compri 9 euro di funghi. Faccio i video a spese loro. E me ne vanno. E buttiamo il funghi. un pochino di funghi. Perché? Non trovo la playstation. Un pochino di funghi. ma è una volta che... Beh, perché è schiava? Dove è strozza qui? Quale è carico? Questo. Per quanto tempo questo lavoro? Questi riesci a fare, facciamo anche un pizzico di sale, per un pochino, per una decina minuti, un quarto d'ora. A poco però più lento. facciamo il prosciutto. Facciamo il prosciutto. di spacco. Accendiamo di qua. Dai! No dai, che mi troppo. Tu hai scatto di culo. Quattro a pieno. Quattro a pieno. Quattro a pieno. di misura. Quattro a pieno. Quattro a pieno. Quattro a pieno. Quattro a pieno. Non puoi scaricare la peciamella? Non facciamo bruciare l'aglietto. No, assolutamente. Gli buttiamo il prosciuttino. di acqua. Quattro a pieno. Quattro a pieno. E qua. Troppo di classe. Le buttiamo un goscino di acqua. Di funghi. In tutte le maniere. che mettiamo anche qua dentro. Per quanto tempo? È il tempo di farli cuocere? Sì, le maniere delle peccantose. Questi prosciuttini cotti. Le facciamo fare per cinque minuti belli peccantose. E poi gli mettiamo la resciana loro. Ottimo. Vamo. 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 Ci aggiungiamo la bescia? Bescia. Gli abbassiamo. Gli abbassiamo che non ci mettevano a bescia. Gli abbiamo inizio. Non ci fai? No. Io sono pronto. Cos'è bravo. Ci non vedo pronto da scritto. Lo vogliono inizio. A me va. Non so perché. Per esempio. giriamo un attimo quindi le svuotiamo tutte quante quante sono da mezzo da mezzo mettiamo un po' di questa pesciamella nei funghi a insaporire a insaporire il fungo allora abbiamo messo l'acqua a bollire il farno acceso al massimo per riscaldare poi stiamo facendo i funghi pian piano fanno una cremina ma adesso molti funghi li mettiamo una parte invece la lasciamo a fare per i fatti propri così questa la sapore ha la nostra besciazza vedete come si colora ora prepariamo la prima pentola allora che stiamo facendo ora ci preoccupiamo di preparare la pentolina quindi imburriamo ben bene la nostra padella con le mani pulite giusto gigano? bah bah è soggettivo quest'oggi faremo ben due taglie intanto abbiamo grattugiato del parmigiano che ci servirà presto il famoso prosciutto cazzafatto e io veniamo ma no ma è impazzito farai non mi scattare il joystick joystick di merda gigano guarda fa il passato si ma non sono lì abbiamo finito di riempire tutto oggi va si vede mettiamo il grano Poi mettiamo un pizzichino di pepe E' una cucchiaiatina di pesciamella Con funghi Intanto l'acqua sta bollendo Possiamo mettere la pasta che deve solo toccarla l'acqua Giusto per sciurare Entrare e uscire Bene, che stiamo facendo? Il prosciutto che ci è rimasto Lo mettiamo lì Adesso la parte più delicata Versiamo la nostra pasta rapidamente Veloce E' tira ricoglionito Paglia e fieno Paglia e fieno Paglia e fieno Tra due minuti verrà scolata Tra due minuti verrà scolata E' gettata lì dentro Qui dentro Andiamo Togliamo la pasta Questi quintali di pasta Ok E' E' No No E mettiamo tutto Qui dentro Se non cade prima Buona volta C'è C'è un po' C'è un po' C'è un po' C'è un po' Giriamo Alla grande Besciame il prosciutto E i funghi sono di là Proviamo questi funghi Giurba Tessiamo i funghi Oh male Prendiamo la nostra prima teglia Eccola! E gli mettiamo. Sono ancora perdata 0 a 0. La pasto. Mondiale, però ho sentito qui. Posca! Proviamo anche lo chef, non solo i piatti. Un po' di chef ci sta sento. Ci passeranno. E quindi questa prima pentola, quella fatta bene, dicevo, è venuta. Finiamo un po' di cosciuttino. Non so cosa voglio, voglio sempre pensare a un male. Mettiamo un pizzico di pangrattato. Un pizzico. Un pizzico, mi scusi. Ma che bella. Tutta colorata. Ecco lo chef che propone un pizzico di pane trattucciato. E quest'acqua la possiamo dimbollare. Alla grande. Perfetto. E questo è il risultato dopo 20 minuti. 15 minuti. E questa è la seconda. C'è la quattro e ti do al qualsic생처. Barunque!